Maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali sulla figlia minorenne. Questo il racconto sciocca di una madre che ha portato alla denuncia di una 57enne di origini albanesi, residente a Sansepolcro. Una storia drammatica, i cui contorni restano ancora tutti da chiarire e sulla quale stanno cercando di far luce i carabinieri della compagnia di Sansepolcro, che al termine di una minuziosa attività di indagine hanno denunciato l'uomo. La moglie, una cinquantenne connazionale ai militari, ha infatti raccontato di una situazione familiare diventata ormai per lei insostenibile. Aggressioni verbali, offese, ma anche molestie, minacce di morte e maltrattamenti, episodi diventati poi sempre più frequenti e violenti, soprattutto a seguito della richiesta di separazione da parte della donna esasperata ormai dai continui sopprusi. Ma non solo, è stato infatti nel corso della confessione ai carabinieri che sono emersi i dettagli di una storia sempre più inquietante. La donna avrebbe infatti raccontato anche di episodi di molestie a sfondo sessuale nei confronti della figlia all'epoca minorenne, fatti che la cinquantenne non avrebbe denunciato immediatamente per timore di possibili ritorzioni da parte dell'uomo. Adesso il cinquantasettenne dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata.